Conta gli studenti, ci saranno difficoltà ma saremo al vostro fianco, rispettate le regole di cautela e fate la vostra parte. Ragazzi e famiglie si preparano al ritorno in classe domani in 13 regioni, ingressi scaglionati, mascherine, temperatura, le nuove regole. Zingaretti, PD, unico argine contro le destre, Di Maio, spendere presto e bene recovery fund, opposizioni, governo incapace. Stabile la curva dei contagi, aumentano i ricoveri, pronto entro la fine del mese il test salivare, servirà per screening di massa. Israele verso un nuovo lockdown ma il governo scricchiola, si dimette un ministro, riunione fiume, parla Netanyahu. Caivano provoca la morte della sorella perché aveva una relazione con un trans, la filosofa Marzano subito legge contro omotransfobia. Formula 1, la gara del Mugello segnata da una catena di incidenti, male le Ferrari nel loro gran premio numero mille, vince Hamilton prima del via, esibizione del figlio di Schumacher sulla macchina del papà. Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1. Domani milioni di studenti torneranno in classe in un video messaggio, gli auguri del Premier Conte ai ragazzi. Il rientro è un'emozione, ci saranno disagi ma saremo al vostro fianco, ha detto. Le regole vanno rispettate, fate la vostra parte. Poi il ringraziamento alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola. Mario De Pizzo. Siamo al vostro fianco, dice il Premier Conte.